Avete sentito? Due tiktocchini Due tiktocchini di numero Oh fratello due Due perché sono 24 minuti Ci abbiamo veramente niente Per fare di tiktocchini Il timer sta parlando Più parlerò meno tiktocchini si guarda Quindi aspetto la subcomprime Io ti dico Andri Io spero Che la metà delle robe che ti ho mandato Siano state censurate L'ultimo era di Surry Oddio ma questi sono tutti bloccati Vado su quello di Surry Ma chi cazzo è? Questo è Surry E lei è Surry? Non è Surry Allora vado ancora È Surry? Non è Surry Scusate Pensavo fosse Surry Pensavo fosse per un attimo Surry Eccolo Eccolo Cosa c'è sopra Surry? Non credo ci sia Nulla Allora adesso andiamo a vedere E si parte L'obiettivo di oggi è non innamorarsi Ho perso Vabbè Signori per oggi era tutto Ci si becca Domani A sto punto Un clappetino a tutti Non ho capito troppo bene cosa sta dicendo Pass Stato sentimentale Insere A Che squadra simpatizzo No 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 Ok I want a boyfriend Ah And I want a girlfriend But Can't always get what you want Can't always get what you want But if you drive sometimes Ero inaspettato Non mi aspettavo Cantasse O mi intonasse Smash entrambi Non so cosa dire Le persone dislessiche Quando scrivono la lettera A satan Piuttosto che santa Dimmi Ma chi è Shade Che mi fa freestyle così Andò Oh Oh Manta di nuovo Uno contro uno Andò No Goal No No Io 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 avrei Paura Eh un bot lei è quella che è quella medusa che si chiede perché non mi trasformi in pietra eh fratello questa è medusa no perché io manco rischio di mai che se ne i siti questo fra c'è sta giocando col mod menù di gtta però è perfetta ma non abbiamo già visto prima lei la dalle per luigi parto di scuso lo su chi sta battendo la punizione pier chi cazzo è quello sulla palla la gatto è surri no no pes pes io ma che figata ma è bellissimo io e il bro dopo che ci siamo messi nel letto io e il bro dopo che ci siamo messi nel letto uno vicino all'altro andri questi eravamo io e te a casa mia non potrei mai prendere questa carla in real life questa carla gli altri parlano vecchio gli altri parlano io ho la sindrome di down tu penserai che io non possa sciare sulle piste nere oh però c'è il flow yo ragazza sei carino ok puoi tenermi la mano no è la mia che non ho borco del io non soleggio ragazzi sono diventato hdmi schifo vecchio eppala ho decidi di pinnare la bici vecchia questo è un bellissimo esempio non di come le cose dovrebbero stare ecco chi l'ha chi l'ha detto ha ragione ha ragione ha ragione ha un po' sbagliato ma questo è un bel esempio di non dovete farvi giudicare da nessuno figurati da una femmina grissimbo 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 oggi porta in tavola una novità questo è ufficiale madonna fino al bacino va bene ma poi la serenata è caliente la mia mente ogni volta che guido però il cane 50 punti no sbagliato la mia mattina in un minuto mi alzo dal letto ora mi vesto e vado un po' in cucina a prendere il caffè perfetto mi sono vestito e ora vado in cucina a prendere il caffè prendo il caffè oh però va bene si è sciottino perfetto sto un po' nella stanzetta a pensare un pochettino alle femmine sto un po' seduto sul letto a pensare un pochettino alle femmine sto un po' sul divano a pensare un pochettino sto un po' in cucina a pensare un pochettino alle femmine sto un po' in bagno a pensare un pochettino alle femmine vabbè scusate ragazzi sono stato un attimino di là a pensare un pochettino alle femmine Oh questo fa di me una persona omosessuale sono omofobo e sono male o mele o mele si o mele Omele o mele o molossi questo non puoi dirlo una volta un famoso calciatore italiano disse una frase che vi farà riflettere ragazzi Bobo gli undici giocatori più forte che tu hai giocato frasi io sono una cazzo di omelette bobo è tutta la padella però eh è un cavolo little boy maestra lo vedi? lo vedi come fa cazzino? da arrivare ho scordato fra è tutto lui eh no 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 carissimo dottor bavaro t'aspetto cazzicola al bar 3.0 ci mangiamo una pizza insieme tre carbonari insieme tu sei ricco mi ospiti nella tua villa così facciamo il video su F ma raccomando ti aspetto e capite chi è un popolo pi-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri mou't buy some dances made a whole team for dinner wha wha I'm laying out of my eyes I can't see no no pes il tempo di vals pese il tempo a si arraggiar Ma è giù! C'è proprio un cazzo in gambe Hey! Io non so come si reagisce, non so... Ma quanto è fico vestito così! E di tocchini, I just don't have to knit them Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace and fire